Questa sera diamo l'avvio alla campagna elettorale, a questa competizione alquanto complessa del candidato a sindaco di Mazzara del Vallo, però vedo già dal primo approccio che stiamo andando abbastanza bene. Sono contenta dell'afflusso di gente che c'è. Oggi di che cosa si parlerà? Oggi penso che mi presenterò ai cittadini, distribuirò i facchi simili con la sintesi dei punti più importanti del programma, affronteremo qualche punto in particolare e niente di più, un momento di incontro, un momento conviviale. Da questo momento il comitato rimarrà aperto tutte le sere a disposizione di tutti quei consiglieri che non hanno una propria sede e quindi si appoggeranno qua da me, faremo degli incontri, dei dibattiti, programmeremo tutte le nostre attività, gli incontri tra la gente, quindi i momenti ormai non si fermeranno più, sarà sempre un momento. Abbiamo già una programmazione di coalizione, è già pronta, però ancora non posso dare le date perché aspettiamo la conferma di alcune presenze, quindi man mano diremo quello che andremo a fare.